Dopo la sospensione fino a mercoledì dell'attività didattica predisposta dal sindaco dell'Aquila per le scuole di ogni ordine e grado del capoluogo in via preventiva, considerato l'intenso sciame sismico che da giorni interessa la città, anche l'Università dell'Aquila ha disposto lo stop delle attività didattiche, lezioni, esami ed esercitazioni da sabato 28 gennaio a martedì 31 gennaio 2017. Le attività riprenderanno dal primo febbraio, mentre con il parere concordi di tutte le componenti del Consiglio studentesco, il presidente Marco Bosica ha chiesto alla rettrice il posticipo della didattica di una settimana, così da permettere una ricalenderizzazione regolare degli esami ed evitare che ogni singolo studente debba contattare, auspicandosi una risposta, il docente per sostenere l'esame. In una città a vocazione universitaria però, la tragedia della casa dello studente ha segnato una ferita quasi indelebile nel mondo studentesco e nonna, per questo l'Unione degli Universitari ha chiesto chiarezza in merito alla sicurezza degli edifici che ospitano le attività dell'Ateneo. Finalmente, dopo lo scorso CDA, afferma Ludu, si è iniziato a parlare di vulnerabilità sismica e riteniamo che sia osaggia una scelta quella del fascicolo del fabbricato, ma le verifiche di vulnerabilità dovevano essere effettuate per legge entro il 31 marzo 2013. Siamo nel 2017, le sollecitazioni del delegato di Ateneo per la prevenzione e protezione sono state ignorate e solo a seguito delle ultime scosse l'Ateneo si è attivato. Ludu, oltre alle prove sugli edifici e dalla certezza che questi siano a norma, chiede da anni che siano effettuate prove di evacuazione con costanza al fine di avere studenti, personale e docenti pronti a gestire situazioni che nei nostri territori dovrebbero essere di normalità e non di emergenza. Nel 2014 fu risposto che ne sarebbero state programmate due al mese, ma oggi, affermano dall'Udu, è difficile trovare studenti che ne abbiano fatta più di una in tutta la loro carriera universitaria. È responsabilità dell'Ateneo, conclude Ludu, la sicurezza degli studenti. Per questo è necessario che si chiarisca nel minor tempo possibile, tramite comunicazioni e documenti ufficiale, l'attuale stato degli edifici verificato con le prove di primo livello e che si proceda alla sensibilizzazione di tutti coloro che frequentano l'Ateneo. Grazie. Grazie.